presenta tutto il gruppo alle 21 e 29 lasceremo il segnale ci sarà il segnale orario il gr2 torneremo dopo 8 minuti circa sentiamo io non riesco non capisco il valore commerciale delle macchine del fisco non mi importa non so il contratto porta a porta per l'azienda nazionale non rispetto io non viso per il pubblico ufficiale io tra business plan e shopping megabyte e flop vi resto qua io non riesco non capisco l'interesse popolare per il calcio per le corse per le ferie organizzate non capisco non conosco niente del bando ufficiale il concorso vinto e perso nella tela digitale io tra mode bodybuilding ribaltoni e piercing resto qua e migratto mentre il gatto si sveglia si stira sgrana gli occhi guarda in giro e se ne va io non riesco non capisco il valore addizionale il tuo tasso ben nascosto nella banca popolare non capisco non sopporto la campagna elettorale i torace sono scarso per l'impresa militare io tra business plan e shopping megabyte e doping resto qua e migratto mentre il gatto si sveglia si stira sgrana gli occhi guarda in giro e se ne va planer chi ha visto planare gli angeli del cielo planer chi ha visto planare gli angeli del cielo planer chi ha visto planare gli angeli del cielo planer chi ha visto planare gli angeli del cielo planare gli angeli del cielo per la scuola per la scuola per la scuola